La live di ieri non l'ho vista, non è che mi è interessata particolarmente, anche perché ho semplicemente dato un mio commento, cioè ma chi se ne frega, anzi dedicarmi una live troppo, attenzionalmente troppo. Ci sono state dette delle cose che secondo me vanno chiarite, ok? Vanno assolutamente chiarite e sia per il pubblico mio che per il pubblico del Cerber secondo me è giusto chiarire. Primo, così partiamo subito a bomba, non ho detto che Rubino non sia uno streamer, stavo cazzeggiando, non è che lo possano fare soltanto i migliori streamer d'Italia, a dire una cazzata con un tono palesemente ironico e quindi farci una live sopra su una cazzatina del genere, perché sennò siamo sempre punto a capo. Quindi sì, Rubino è uno streamer, è ovvio che è uno streamer. Che cos'è uno streamer? Comunque prova a portare un contenuto dietro davanti a una telecamera, argomentando o giocando, intrattenendo chi ci riesce di più, chi ci riesce di meno, il proprio pubblico, quindi sì. Punto primo, sì è uno streamer, non rompetemi il cazzo quando io ill'aziono, faccio il deficiente nelle mie live, anche perché è tutto abbastanza normale, fa parte del gioco. Ieri non mi sei piaciuto Bomberissimo, in che senso Bomberissimo? Comunque in ogni caso, altra cosa secondo me, attenzione, non ho visto la live, ho visto soltanto degli spezzoni una volta che sono tornato a casa, quindi non l'ho vista tutta. Ho visto che Marra si è specificato molto sul discorso del non essere uno streamer e anche sul discorso dell'impostato. Ho sbagliato termine, non volevo dire impostato, volevo dire impacciato, ok? Lo vedo impacciato molte volte. Quando lui dice che i tempi morti sono per leggere la chat, io penso che uno streamer di livello, questo è un mio pensiero, e rimane tale, riesca a leggere la chat anche mentre parla, mentre riesce ad argomentare un pensiero. Per cui, onestamente, mi sembra un po' un discorso del cazzo, eh? Poi leggere i messaggi in chat di alcuni streamer colleghi che parlano di numeri, mi è scoppiato a ridere, ma non farò il loro nome perché non ho minimamente intenzione di dargli un secondo di visibilità. Giustamente io non faccio i numeri di Rubino e quindi non posso permettermi di avere un pensiero. Altra pensata clamorosa. Le cazzatine di Flame, di Simone, ormai le ho accettate, perché non le prendo più sul personale. So che scherzano, so che lo fanno per il content e va benissimo. Su Rubino, onestamente, mi aspettavo fosse... Lui dice che non gliene frega niente dei giudizi negativi, a me invece sembravo... Mi è sembrato di vederlo abbastanza triggerato. La cosa che più mi ha dato fastidio di tutta sta situazione, e voglio che Adamantio, che non è il padre eterno ma è abbastanza intrinseco nella live del Cerbero, è che Rubino ieri non abbia affrontato il discorso con me e l'abbia dovuto affrontare con i ragazzi del Cerbero e abbia dovuto farci una live sopra. Questa cosa a me è andata veramente di traverso ed è stata la dimostrazione, secondo me, non soltanto di una mancanza di responsabilità propria come persona per le live che fa, visto che comunque la critica, se vogliamo chiamarla tale, più che critica il mio parere è stato dato da me e non da altri, quindi andare ad analizzarlo da altri è da stupidi, e un po' certifica anche il mio pensiero del probabilmente riuscire anche ad argomentare un pensiero o una discussione di un certo tipo, la si può fare soltanto con determinate persone e non sempre solo nella propria comfort zone. Avrei voluto un confronto diretto, ma non per il content, semplicemente perché il discorso era diretto a me. Tutta sta partita, che ripeto, cazzatine a parte, è comunque show, la cosa che mi ha dato più fastidio è proprio quella. Di David, io te lo dico con tanto rispetto, ieri hai fatto una figuraccia ai miei occhi, cosa che ovviamente a te non interessa, ma va bene. E secondo me l'hai fatta anche davanti a tanti altri, proprio perché mi è stato detto, ma cazzo, ma perché non è entrato? Perché non ha parlato? Questo è un po' il pensiero, per cui possiamo tranquillamente andare avanti senza nessun problema.